Ok, allora manca poi da cuocere la pasta, giusto? Sì, hai usato così, hai avuto il posto di fare questo? Sì, sì. La pasta, l'erbe, il foglio lo mettiamo su lì forse o sul... Su che tanto? No, no, sul fletto, mazzetta. Ok. Non su tanto. Lo mettiamo così, sotto. Ok? No, no, solito lo mettiamo, lo mettiamo sulla papa al pomodoro con il riso nero. Ok, mi piace. Ok?